Si conclude con ben 30 sanzioni per un totale di 13.000 euro ed una denuncia penale. La Cherel fa il primo cittadino di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara ed il circo Lino Orfei. A fronte del mancato rispetto della normativa vigente in materia di affissioni, come pure dell'ordinanza sindacale messa il giorno 11 settembre, la Polizia Municipale ha provveduto a multare e segnalare agli organi di competenza le irregolarità commesse dai componenti della famiglia Circenze. Sono state intraprese tutte le strade possibili per trovare soluzioni che rispondessero alle esigenze tanto del Comune, tanto degli Orfei, afferma il sindaco. Ci siamo anche seduti ad un tavolo per concordare le migliori strategie e stabilire strumenti condivisi. Nonostante ciò abbiamo assistito ad una palese infrazione delle regole concordate, infrazione che ci ha costretti ad elevare un cospicuo numero di multe e ad adire le vie legali.